Gianfranco, allora a muso duro perché? A muso duro perché non ci saranno sconti per nessuno, quindi se meritano degli applausi io farò gli applausi, parlerò bene, se meritano naturalmente che io non è che parli male quella polemica costruttiva, sarò molto polemico con chi si comporta in un modo selvaggio nel mondo del calcio, spero di non offendere nessuno, chi si offende è fetente, io non sono l'opportunità. Allora mi chiedono che cosa penso della politica, la politica dovrebbe essere la limpa vitale di ogni paese, il politico quando viene eletto in Italia purtroppo, una volta raggiunta la poltrona pensa solo ai casi suoi, ai fatti suoi e non al popolo che soffre continuamente. Poi penso della politica che questi signori guadagnano troppo, l'Italia è quello che conta, non bisogna pensare agli interessi, ai partiti di destra e di sinistra, non ha importanza, l'ideologia non si può definire in un partito, non esiste, tant'è che io sono un uomo di destra, quando parlo sempre è stato di destra, però quando parlo dicono ma com'è possibile, tu parli come la gente di sinistra, ma non vuol dire niente, è proprio questo fatto che dimostra che quello che contano sono gli ideali, sono i punti di vista che sono per il popolo, non sono per se stessi, ma sempre per il popolo, siccome purtroppo in Italia c'è questo tipo di errore, io spero che la nuova gioventù siano dei politici sani e più puliti sotto l'aspetto del vile denaro. La gente, la classe politica, perché una città, non si può vivere solo del teatro, perché ci stanno pure le murature, le carpendiere, ci stanno quelli per benissimi che vanno a teatro, io sono andato a un teatro, una sera pioveva e siamo andati al Flaiano, solo Luca, là dentro non ti dico, guarda, proprio un pianto della miseria, quindi il teatro non ci sta, poi un buono e distrutto è stata fatta la chiesa, perché una certa signora che ha dato il terreno voleva conquistarsi il Regno dei Cieli, capito, dando il terreno, il Padre Eterni ha detto il Regno dei Cieli, tu non ce l'avrai, avete quello che ho chieduto, l'arma è nata là sotto, al 700ismo anello, sta là sotto, capito, a mezzo insieme a Lucifre e compagnia bella, e adesso anche qui pare che c'entri la polimica, la politica, chiedono l'Umi al sindaco, le cannele, le cannele tenete a chiedere, lo sindaco, che la politica è tutto quanto uguale, cari tifosi, anche per voi ci saranno momenti difficili, chiedelo sì, ma le cannele dovete tenere a fare per portare la Madonna, capite, da manupelle, perché qua noi, voi e qualche altro, se non facciamo questi cannele, non so che ci saranno, la verità, se il tifoso fosse, a me se venessero potuto, se mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici un voto, addo, qua te ne dici un voto, capito, perché tu prima mi dimostri che cosa mi stanno facendo, ma non che le marcia a piede, perché è vero che stanno facendo le marcia a piede a Pescara, ma è pure vero che a Via Granzasse ci stanno 40 tossicodipendenti, che là sta succedendo un casino, ci stanno le zoccole così grosse, sempre Caimane, sempre i zocchi, capito, buonasera, sono Cinosi, telefono da Lanciano, buonasera, io saluto tutti, soprattutto Genovese che stimo molto, però volevo parlare a muso duro col signor Sembrodi, la Lazio aveva 300 miliardi di debito di vecchieria e non è fallita, la Roma 100 miliardi di vecchieria non è fallita, la Fiorentina aveva un parco giocatore, mi dici qualche nome, Chiesa, non so se lo conosce, se lo conosce, però se tu parli più calmo, non ti fa più calmo, se lo conosce, ma ti fa più calmo, parla calmo se non ti capisci, io capisco che il tempo è breve, ma se tu mi parli così concitato non riesco a capire, io non so che mi volessi dici, capito, perché pure un'apola fallita che 100 milioni di euro, non ho capito, assolutamente deve essere fatta fallita, no, non hai capito, ascolta bene, ascolta, mi ascolti un attimo, mi ascolti un attimo, mi ascolti un attimo, mi ascolti un attimo, ha parlato con tutti qui circa 380, non so capito, non so capito, che la penalizzazione è pesante, lui sostiene, è pesante la penalizzazione, della Fiorentina, la Fiorentina è pesante, deve partare della Serie B, come è pesante, allora lui, ma se ti fosse la Fiorentina tu, scusi, ma se ti posso della Fiorentina, ma se ti posso della Fiorentina o no? La Champions League si ritroverò con 19, 20 in meno in Serie A, hai parlato a te, scusa, hai scusato, hai scusato, hai scusato, un po' di ordine, perché stavolta ho trovato qualcuno che parla molto duro più di lei, vinci tu allora, vinci tu, allora ci vieni due ste poste, tutta la prima cosa è l'educazione, pronto? Buonasera Enrico, con chi parliamo? Non sento bene, sono Marco da Pescara, buonasera Marco, niente, io vorrei innanzitutto, allora mi caccio tanto di cappello davanti al signor Sembronio, perché è una persona che dice ciò che pensa, buonasera signor Enrico, buonasera con chi parliamo? Sono Pasquale da Rosetta, vorrei fare un ringraziamento bevissimo al signor Gianfranco Sembronio, sì, è perché sono ragazzi con la mia quattro anni, mi definisco ancora ragazzo che sono molto, molto più curvaiovo di lui, tanto è vero pluridisfidato per la troppa venialità e volevo ricordargli che gente come noi, tiposi come noi, purtroppo sono scomparsi, signor Sembronio, pensi a questa domanda, Pescara è una città molto grande, con molti imprenditori, ma le pare che tenivano i paterni da Muciane a farlo presente lo Pescara? A Muso Duro, lo sai qual è la risposta immediata? Che purtroppo qualcuno si offenderà ma è una frega di cervi? Noi abbiamo a Pescara una frega di cervi, i cervi che tu vedi sopra le montagne, capito, che stanno nella cosa, partono da Pescara e vanno a vivere là, i cervi, capite? Quindi se vuoi capire, capisci. Di Stanislao succede ad Angelucci. Scusa, di questa cosa qui di Stanislao, io del Lanciano sotto la spesa società non ne vorrei parlare, non ne vorrei parlare perché io già l'ho detto una volta, questo signore sembra che si sia lamentato con qualcuno della mia persona, cioè già c'è stato uno scontro incontro perché io una sera ho detto, mentre stavo in diretta un'altra trasmissione, il signor Angelucci stava firmando il contratto, speriamo che chi chiacca una parare salamana perché l'ho padre si sta arbuticato dentro la tomba, sono detto, perché stava vendendo la società a questo tipo. Lo penso ancora oggi, lo penso fermamente, non credo in questo signore. Non ci credo, è una sensazione, posso avere una sensazione da imprenditore o no? Sicuramente è venuta fuori la storia di Maio e poi è venuta fuori la nuova gestione. Con la nuova gestione si è concluso l'iter che era stato intrapreso da un mese. Perché non lo guardi? Sono dieci minuti che non lo guardi, lo ascolti soltanto. Non lo sto sentendo, forse non hai capito, forse non mi sono espresso bene, non lo sto sentendo nel senso che io cerco... Non lo stai snobbando. No, assolutamente, ho un grande rispetto, un caro amico. No, io colgo solamente di una persona, quando parla, ascolto molto, i lati positivi che io devo immagazzinare dentro il cervello. Cioè le stupidagge le devono cancellare, non che tu stai dicendo le stupidagge, chiunque parli le cancello immediatamente, perché se no ti inclui il cervello, non troppo grande, quindi non puoi immagazzinare una frega e capito di messaggio. Io ritengo, Franco, che prima di dare dei giudizi su delle persone... Perché io ho... Io non ho dato i giudizi. Che cos'è il Pescara per Gianfranco Semproni? Non vorrei offendere la mia cara moglie, che ho sempre amato profondamente e l'amerò fino alla morte. Mi commuovo perché il Pescara per me è una cosa... Dico una grande parola. Più di mia moglie. Forse non potreste capire e forse neanche mia moglie può capire quello che sto dicendo adesso. Ma io mi sono innamorato di questi colori bianca-azzurri da sempre. Da quando sono venuto a Pescara perché ho abitato a Città Sant'Angelo nel 1960. A piedi ho raggiunto lo stadio perché il 13 agosto del 1960 sentivo un vociperare di gente, non sapevo che cosa era e facendo naturalmente il percorso di Via Davolo su un paio di 200 metri raggiungo l'angolo di Via Pepe dove vedo questo stadio enorme dove della gente gridava eccetera perché io in un paesino non avevo mai concepito una cosa del genere. Anche perché poi la Città Sant'Angelo è stata squalificata per tanti anni, il calcio non esisteva. Mi dicevano che dovevo fare il biglietto, io giustamente da discolo come ero ho saltato con tutte quelle cose, sono entrato dentro questo stadio e ho visto che questa gente acclamava queste maglie bianca-azzurre e quel giorno è nato quest'amore dove non mi è passato mai. Adesso ho fatto 47 anni di tifoso pescarese, spero di arrivare 50 anni, mi faccio un regalo da solo, tu in una festa mi facci una festa da solo, capito? Al telefono, intanto Gianfranco sta cambiando pagina perché… No, lo chiedi alla nostra regia quando mandava quella curva, la curva… Ah sì, dopo la vediamo, guarda vediamola subito allora, ecco qua, questa è la curva dei tifosi del Pescara di un po' di tempo fa… Di moltissimo tempo fa, quando ho detto vede la curva, questa è la curva Nord, eravamo fedelissimi, ero un gruppo, ce ne sono tanti ragazzi, qualcuno che adesso non c'è più, meraviglioso, e questa da qui poi è nata la curva, i Rangers, eccetera, ma prima c'era questo settore, vedi, ce ne sono altri, altri, diciamo vedi… Di quanti anni fa… Moliterno, questi risaliamo ai tempi quasi della serie D e poi la C1 con Tom Rosati, eccetera, eccetera, eccetera… E qui c'è Gianfranco Semproni in mezzo, io l'ho già riconosciuto… Qual è? È questo? Sì, quello con quei capelloni… Sì, 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 esatto… Allora praticamente è, Gianfranco Semproni è proprio in mezzo, ovviamente, è proprio al centro dell'attenzione… No, 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 non è il centro dell'attenzione, è semplicemente che sono nati in quella curva e sono fiero di essere di quella curva… Ma avevi tutti quei capelli… Eh? Avevi tutti quei capelli… Eh? Ma una volta tenevo una frega di cose di chi ho, una frega… Sì? Uuuuh… Ah, quindi adesso ti mancano… Avevo tante cose di più che ora si sono affievolite, si è affievolito tutto purtroppo… Ah beh, quindi ecco, Gianfranco Semproni… Il tempo è malvagio… E per questa squadra sopprono, perché noi non siamo tifosi dell'Inter, del Milan, della Juventus dove sono abituati a vincere, noi siamo tifosi di una squadra di provincia dove conosciamo la passione, il dolore calcistico, il dolore tra virgolette calcistico, diciamo le angosce, le litigate, ho fatto tante di quelle volte appugni fuori casa, io da quando ero ragazzino, perché seguivo il Pescara dalla Serie D col Poggiardo, Nardoce, adesso la storia è lunghissima, non basta una vita per raccontarmi, però una cosa è certa, che io purtroppo sopra non ho più i miei denti, ma ho una protesi e non mi vergogno a dirlo, per quanti cazzotti ho preso? Voi non potete immaginare quante cazzotte sopiate? Viscerale proprio, qualcuno mi dice, mi ci sono svegliato anche a Bologna, c'è una storia tremenda, una baruffa udine, praticamente mi sono stato preso a calci e pugni da forse 400 mila tifosi, io ne ho steso uno solo, perché quello è il mio obiettivo, uno ne potevi stare, ne l'ho steso e poi ci sono svegliato a Bologna, mia moglie, queste cose, non le sa, meglio così perché tante me ne pensano, gli avevo detto che ero andato a una riunione, se le sa, ci paziente, ma tante lo sa che quando vado fuori, se mi toccano il Pescara, mi tolcono la sciarpa, mi tolgo, mi tolgo, mi tolgo una ma io divento una bella. Non è che si può mandare sempre la gente gratis allo stare, perché a me che mi piace l'opera non è che mi mandano gratis, ti paga sempre l'obiettivo. C'è un giocatore che prende 40 mila euro, dice alla banca che ne prende 80 mila, una 340 è scumbare. Io vado a San Benedetto, vedi hostess, vedi cioccolatini che girano per le tribune, vedi il caffè, vedi tante cose che arrivano, una forma presente, i sedioline ricoperti tutti precise, fatti bene, vai ad Ascoli, ti presentano un giornale del genere eccezionale che tu quando l'incomincia a sfogliare ci sta la classifica, i cambi, le cose. Cioè dove sta sto Marche, a noi ci danno un giornale stampato in azzurro che quando te le mette sotto l'occhio e se c'hai pantaloni blu come ti alzi ti tutti quanti... capito, lo scorso e tutta la stampa dietro il sedere. Cioè, teniamo come bar una catapecchia che non finisce mai, teniamo un bar che ci sta un signore meraviglioso che fa un caffè buonissimo, solo la barra va a sto bar, chissà se prendi capito, là ci stanno ancora le cose quelle unilare. Stiamo giocando la salute di Luca Sanderra che non riesce a trattenere le salle. Ci abbiamo un'immagine, è vero che non fa la sostanza, l'abito non fa il mondo, però ti aiutano a prendere il giorno. Sì, hai ragione, ma io nel calcio non c'è la logica, come non ce l'hanno gli uomini quando vanno nei night, e mi spiego, quando vanno questi zozzoni nei night, perché ci vanno, io l'ho servito per tanti anni, quando vanno con una donnina, per fare una mano, solo la donnina ci vuole 150, 200, 300 euro, come la del peso, quantità di fare una mano e quantità dalle solde, sono scelte, io ti dico il mio modesto, tu la vedi così, io lo rispetto. Ci sono anche famiglie intere, c'è il padre che fa l'abbonamento anche per i figli e una famiglia dovrebbe essere incentivata per tanti discorsi che facciamo, anche sulla violenza. Avevo premesso che questo contesto al marketing non hanno saputo gestire. Questa è una bella iniziativa, adesso magari può essere migliorata e ricalibrata, però l'idea di dare comunque una serie di sconti insieme a l'abbonamento, è solo da rivedere, non è che non è buono. Sì, sì, quell'iniziativa è buona, è da ricalibrare. Ecco, di aggiustare un pochettino il tiro, tipo ecco, qua ci stanno delle, cioè io guardo più lo sconto sull'umagna, insomma, non investire il... Però ognuno può... Vabbè, poi uno, allora posso mandare pure alle isole Seychelles, faccio un sconto, capire se via alle isole Seychelles. Qua si parla che qua si presume che chi parla buonamente siamo un po' a corte di fiato, un po' tutti quanti, allora probabilmente fare dei buoni spesa credo che sia la cosa migliore, oppure addirittura una bella bistecca fiorentina. Franco, buonasera a te con questo bianco, eh? Una camicia bianca. Simbolo di purezza. Spara? Non capite che vuol dire spare? E sparesse a tutti quanti qua. Ecco. Se no che la capisci, ma proprio di rigore. Tu sei uno che spara, tra virgolette, quindi... Spara. A me non mi sembra che spara, io credo, credo, come ogni cittadino che dovrebbe essere ranger della propria città, ognuno è ranger della propria città. Se ognuno potesse notare, come vuole, con delle scritte, con, che ti devo dire, con dei volantini, qualsiasi cosa che non va nella propria città, è anche lui custode di certe cose che non vanno. Esatto. Non bisogna avere dei paladini o delle giovane d'arco. Poi volevo dirne un'altra su Wind. Wind è fregne, perché proprio... Stavolta Wind. No, è fregne Wind. No, per Parco Undicio, l'altra volta abbiamo parlato di Vodafone, di Tim, adesso parliamo di... No, perché io, per esempio, vedete queste, queste, tutte le telefonate che faccio io, queste sono tutte le telefonate che faccio io, con il mio telefonino, però poi il mio telefonino, queste mettono solamente uno, due, tre, quattro, cinque numeri, dopo mettono tutti X, mancano due, uno... Certo, è la privacy. Sì, sì. La privacy. Ma è la privacy di chi è? Le telefonate le sono fatte io, cioè io ho chiesto il tabulato delle telefonate che faccio io, non di quelle che ricevo. Sì. Quindi se le ho fatte io, si presume che sono telefonate che potevo fare, e la privacy di chi? Cioè io chiamo delle persone, le ho chiamate io, voglio sapere se queste telefonate corrispondono a chi ho chiamate, perché io poi tra parentesi me le ricordo, perché io non è che telefono, capite? Eh, ma sono tantissime, come fai a ricordarti? Motive di lavoro. Sono centinaia. Sono tutti clienti, clienti e ditte. Quindi, dopo un spai, io dal numero di cellulare, dagli ultimi due riesco a ricordarmi di chi è quel mio cliente. E quello, poi il spaglio là in mezzo, vedo un foglietto, un'altra multa. Un'altra multa? Un'altra multa. Ma le molte le piaccate fa, sai perché? Ogni settimana una multa nuova. No, ma questa è bella, perché a questi signori, dietro l'angolo a Pescara, fanno quindici giorni che non vede un vigile. Una settimana, perché portano un mare di molto, poi da l'utemba a quelli di registrare e domandare se ne raccomandare. Oh no, il cartellone, diciamo, luminoso. Ah, il tabellone allo stadio a Pescara. Il tabellone luminoso, si chiama cartellone. Il nuovo tabellone. Esatto. Perché ne fanno 27 metri quadrati enormi e poi, dove le squadre appariranno, l'orologio che è più grande, di dove devono apparire le squadre. Cioè, mi sembra una cosa proprio fatta alla zuzza. L'orologio funziona? E questo signore, no, ancora no, non parte mai, le langetette. No, perché io non l'ho notato. No, neanche io. La parola vinta, che vuol dire? Mi spieghi? Very important person. Strauss. I dirigenti loro che sono arrivati, che 7000 bulldog, 7000 scagnozze, che con uno mi ci sono pure attaccate dalla 6 quartier. Al momento mi passano sopra, io stavo alle poltroni, no, alle poltroni. Passano questi come una fioria. Davanti ci sta Lucoccia Pelati di Marine. Arrete su mezzo picchetto, capite, di De Laurenti, con tutti i sti pistoni, capite? Ma che è una partita di calcio? Ma mica è una rock star, cioè, che... La poi, come sono stati accolti? Gli hanno fatto il cocktail party, gli hanno dato il posto migliore. Oh, e sono stati beffeggiati e anche addirittura trattati a malo modo. Noi, come Marine, la partita la giochiamo a Nava. Che dobbiamo fare, regà? La partita deve venire in giù stessa. E il signor Reia, te lo ripeto un'altra volta, quindi ce l'ho detto. Se il Napoli ti dice che qualcuno in Napoli viene aiutato, io lo prendo a calcio. Tu prima di più a calcio, caro Reia, i tifosi, e chi ti dice la verità in base, ne da fare corso. N'abbia ti schiappa tu da mo' fino e dopo domani. La scala, questi megalomani, questi qua che hanno le soldi, ma si parla pure sopra il giornale, che si sposa i tizi, si sposa i cai, non sembra che si sta sposando i billighetti. Chi si sposa? Ma si sposa uno che vende la pasta, vende la pasta e hanno armato il giornale. Capite, pare che si sposa Lady Diana, capite? Ma non esiste. Comunque, tutto fa brodo. Lasciamo perdi, non faccio mai un nome perché non è il caso e neanche mi interessa. Un allenatore giovane, tipo ecco, ad esempio mi piace anche un allenatore moltissimo, Capuano del Sora. Capuano del Sora, sì. Capuano del Sora, io ho visto allenare questo Capuano del Sora, ma parecchie parecchie, è un po', è atipico come allenatore, cammina come uno pinguine, capite? È originario, è abbastanza particolare. Però al di là di queste sue forme, capite, che stanno allenando, non è questo che uno deve guardare, ha la voce anche un po' da checca, ma non ha neanche in importanza, che c'è nel senso buono, cioè c'è la voce un po' femminile, forse mi sono espresso un po', c'è questa voce, però a me come allenatore è grintoso, cioè dalla panchina è forte, guarda. Lasciano un uomo, sto pigmeo, perché poi è un pigmeo, che poi dicono che non è che fa spraggello, è già il piccino, come si chiama? Di vicino. Di vicino. Entra questo qua, sta mezza... Giocatore inseguito dal Pescara, gioca l'anno scorso. Che entra, si alza, elevati e fa il gol, capite, però nessuno gli ha detto niente, gli hanno detto guarda, zumba, che non ci sta nessuno, praticamente là sotto. E avere nella vita, e allora, capite, le famose... Se no, sto Spadavecchia, pare che fino all'ultimo, per avere sto Spadavecchia, in altri pochi ci andiamo a buttare allo burrone di Roccamorici, per avere cussù, ci facevano suicidi di massa e finalmente immoliamo sette, otto vite, sto Spadavecchia arriva. Cioè, per arrivare a Spadavecchia si è dovuto fare i salti mortali carpiati. Diamo male sì, perché il Pescara continua a perdere a Trieste. E' patetico, comunque è patetico vedere Gautieri. Mi fa una pena che le cussette... Gautieri? Sì, mi sembra Dumas e Marilla e Dombrellone. Fammi salutare, allora... Dumas e Marilla. Ciao, buonasera. Mancano meno di 24 ore all'anticipo di Serie B tra Pescara e Lecce, che tra l'altro sarà arbitrato da Matteo Trefoloni di Siena. Oggi stiamo a posto allora, va? Sì, non ti piace? Stiamo a posto. Perché? Eh, perché la c'è per... Sì, ma uno che si chiama Trefoloni. Certo. Di cara, che ho un dito che si era rotto, no? Questo ragazzo è rimasto fuori la bellezza di otto mesi. A parte io che facevo come il museo scevola, che se tenevano di retro rotto, lo bruciavo e rientrava al campo dopo quindici giorni, lo bruciavo. Oppure me lo tagliamo, gli davo fuoco e ritornavo finito. Tornarsi di persone capaci, non che Simonelli si mette a piangere. Mi hanno detto, leggo sul giornale, se mette un bacio a nopale e piangere. Ma che ti piangere? Questo non è un mondo per gente che piangere. Questo è un mondo duro. Dovevi piangere prima. Tu ci hai fatto piangere prima e dopo. Sono straziati i ranger, dove io ci sono stato vent'anni. E consentitemi di presentare queste immagini. Questa è un'immagine di vent'anni fa, dove eravamo in serie D e sembrò di Giovanni. Stava qua con i rangers. Qua stava a morire. E da là siamo fredduti. E dopo vent'anni sto ancora a morire. Mai gioia. Solo dolori, cari giocatori. Non me lo ripeto un'altra volta. Siete dei sozzoni. Figliatti siete. Perché oggi piangete. Prima dove fate piangere. Uno può esprimere il suo parere in modo bell'educato, senza nessunissimo problema. Non come certe persone che certe volte telefonano e dicono mio marito non vede più la trasmissione. E chi se ne frega. Cagni canale, gli piace la trasmissione. Cagni canale. E' tanti semplici. Guarda la telefonata. Ma mio marito non vede più la trasmissione. Perché sono semproni e contro il nostro sito. E chi se ne frega. La presenza... Ma dove pensi che me ne puoi fregare? Ci mette un bel disino. Non usate questo dito solo per al tempo. Cambiate. Sta scadendo il tempo. Che ci fate pure una cortesia. Non è vero. Sta scadendo il tempo. Ma gli gaspici ci vuole vedere. Aspetta, fermo. Pochi secondi. Per quanto riguarda il termo, quest'anno la federazione giococacarci gli deve ridare quello che l'anno scorso gli avanti. Il posto nei play-off. Il posto nei pro, quantomeno. Il posto nei pro, no. Proprio gli deve ridare in quanto loro hanno sbagliato e là ci sono soldi in ballo che la federazione non ha mai cacciato. Cioè la federazione ha piapie e si ridividono tra di loro. Ma quando deve ridare c'è la mano monga. C'è la mano monga monga. Allora, perché a Pescara, caro Renzi, io non so se tu parli degli imprenditori di Pescara. Gli imprenditori in generale. Allora, perché a Pescara c'è il mal costume di tante queste che se le compro quando ce le aveva a Cebili, niente le pinicione, nessuno ci andrà, aspettiamo, facciamo, diciamo. Sempre questo, perché loro è abituato il pescarese, siccome c'è il piume, aspetta la salma e che passa, come dice gli cinesi. Sta volta che ha chieduto in Italia mondo, invece ha fregato la salma, capito? Quindi si andrà a aspettare e sta salma andrà a passare. Perché probabilmente questo signore vuole anche provare a salvargli il pescare. l'ha sperato. L'ha detto, l'ha detto. spera, chi sta per morire, ci hanno due giorni di vita, però spiegare il Padre Eterno, fammi cambiare. Ma perché non debba sperare questo signore? Giusto. Perché bisogna rompere gli entusiasmi, perché bisogna rompergli le palle a questo qui, visto che c'è questo desiderio. Soprattutto che c'è questo desiderio. Cioè noi, appoggiamolo sotto questi aspetti, invece deve essere creativo, invece di essere supportato questo signore, lui deve trovare tutte le scuciture possibili, perché se la piada, ma se ne salva, se ne le salva, e se al parte della Senecini riparterà la Senecini. Saprà quello che farà, io penso. Saluto mattina. Ecco, scusate, perché io intanto mentre voi parlate, sono in comunicazione con la redazione, mi dicono la trattativa è stata chiusa. Quindi notizia di pochi minuti fa, al 99% della trattativa è chiusa, la riunione è finita tra Renzetti e Paterna, e quindi fra qualche minuto avremo al telefono Angelo Renzetti. Questa è una bella notizia. Il collegamento diretto. Questa è una bella notizia. Questa è una bella notizia. Quindi possiamo quasi brindare. Quasi, quasi. Quando telefonerà, pronti i bicchieri, caro amico, prendi i bicchieri, il cappello, alla faccia di tutti, si è cornuto, capite, che volevano il mare di Pescara. Molti ce ne sono, di cervi, la frega di cervi. Aspetta. E speriamo che questo signore abbia fortuna, ci possa ridare un pochettino di entusiasmo. come spigoletto, infatti ricordiamo che qualche giorno addietro era scomparso anche l'avvocato Antonio Strino, stroncato anche lì da un male incurabile, quindi insomma in lutto la tifoseria del Lanciano e domenica ovviamente sarà un ricordo, un tributo a questi due super tifosi del Lanciano che hanno fatto la storia insomma della tifosia organizzata del Lanciano scomparsi così prematuramente. tutti questi esempi che il signore ci manda il denaro è sempre padrone di questi sozzoni di uomini. Impera sempre. Impera, il denaro serve solo per poter vivere in modo dignitoso, tanto salasci tutto e qua, quindi tutti gli imprenditori di Pescara sembra che potete muoere lì sulle 6 celle, alle 7 celle, fate quello che vi parli, 7 celle, 14, dopo però dovete lasciare qua e quando andrete là solo il padre eterno ti dici, capite? Ma come mai che tutti questi soldi che tenivano non hai fatto ridere un po' il popolo? Ma veramente sono i televisi di 6 celle e ora vogliono un 7 centesimo anello sotto là metto all'olio bollente. E che le preparate le valigie? Già fatti tutti essi, praticamente a Pescara dovrebbe partire circa 7 elementi, in partenza Moscardi, d'accordissimo, Moscardi non d'accordo, Delicarri d'accordissimo, Ferrante ha zambato in gola, Gaudieri è una bra... Ha zambato in gola, ha zambato in gola, da un po', ha zambato in gola se ne da se ne deve andare, se ne deve andare, c'è questa città, quando invece da in Napoli che facesse una trasformazione, perché ha fatto scrivere, non ci ha dato solo amarezza, Gaudieri potrebbe rimanere perché è un uomo di grande cuore questo signore, al di là del suo fatto calciste che io lo ammiro e questo me lo terrei perché ha un cuore enorme e mi fa immensamente piacere, Carozza che si deve venire, per quale motivo si deve venire Carozza, per quale motivo vorrei sapere perché si deve venire Carozza, poi dice anche che probabilmente molte persone devono preparare la valigia, tipo Aquilanti, d'accordissimo, non è motivato in questa città, poi ci sta un altro, Olivieri, non sono d'accordo, Olivieri è un giovane, promettente, che ci ha dimostrato di essere molto bravi se non si distrae, quindi è uno che può crescere, Rigoni, se ne dai, ha zampato in culo, può essere, il signore Antonelli, ma come, mi ha fatto tante per piacere Antonelli, ti ho ben detto Antonelli e adesso addirittura questo qua lo mette a preparare le valigie, ma che da preparare le valigie? Un altro, Gonella, Gonella è un altro, quale scambi possiamo fare, chi ci danno? Gonella, noi già sappiamo il valore di Gonella, io ho previsto tenermi Gonella, ecco, queste io dico le cose e poi ci sono altri giocatori che secondo me i cosiddetti senatori praticamente andrebbero quasi tutti via, se ne devono andare, devono inanere quei giovani che hanno la voglia, ma a noi ci serve, caro amico, innanzitutto un portiere, ci serve un terzino sinistro e non capisco perché all'uomo è stato rimandato in Argentina, è Damocle tra i monar mannà, ci sta la trasmissione qua, c'è in devoto che sono detto che non tra i monar mannà, ma da due anni. Andare, Renzetti, c'è qui Gianfranco Semproni che aveva portato stasera una bottiglia di champagne che gli piace da morire, mi piace da morire. Lo champagne o Semproni? No, Semproni perché ha le palle come me. È vero, è vero, ha detto che gli piace da morire perché hai le palle come lui. Gli altri punti. Caro Presidente, futuro, già questa parola mi si accappona la pelle chiamandola Presidente, noi siamo dei tifosi che per 20 anni ci hanno bacchettato. Noi abbiamo bisogno di un Presidente che non ci dica bugie, che ci parli con trasparenza, lealtà, soprattutto la lealtà e dei programmi che siano di C o di B, non ha importanza, non siamo una piazza che vuole Maradona, non lo credo affatto, gli dicono molti sozzoni di Pescara, molte bugie. Noi siamo solamente dei tifosi che abbiamo bisogno di trasparenza e lealtà, cosa che è mancata per 20 anni. Ci hanno preso sempre per i fontelli e noi il fuoco arde sotto la cenere e la tifoseria di Pescara glielo dimostrerà con il Genova. Noi con il Genova siamo quasi spacciati, ma vedrà che cosa sarà la tifoseria di Pescara per quella partita. Se ci sarà un discreto tempo lei avrà modo di vedere quanto entusiasmo lei è riuscita a dare. Non ci assopisca questo entusiasmo, vada avanti per la sua strada e sia leale. Poi gli racconterò anche degli aneddoti. Sì, sì, poi gliele racconterò io tanti di aneddoti su questi cervi. Lei è andata in Svizzera, ma noi siamo rimasti qua a contatto con questi cervoni. Grazie. Presidente, senta il voto un attimo solo in diretta. sarà un voto anche con il Pescara, vedrà. Ma non ha voto come si sanno tirate per vent'anni. La fega di gente per il fattorno. Adesso la teniamo uno champagne, lo sei caro Presidente. Ecco, la teniamo al telefono fin quando... Un attimo solo, Presidente. Un attimo, fin quando... Che mi s'andricciate pure le mani per l'emozione. Fin quando Gianfranco Semproni stapperà lo champagne e poi la lasciamo andare e questo possa essere di buon auspicio oltre che augurare un ottimo 2007. Presidente, partite la palla, vai! Auguri! 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 Grazie! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Allora, Presidente, sempre l'entusiasmo di non ripetere ciò che magari di errato come operazione marketing è stato fatto in questa stagione e poi, importante, i tifosi quindi rivendicano maggior considerazione da parte della Pescara Calcio. Non so cosa rispondere adesso perché non sono dentro a tutti questi dettagli però evidentemente il mio impegno è massimo anche in quelle cose lì. Tifosi, componente importante di una società? Sembra una domanda stupida ma forse non lo è perché c'è chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro. I tifosi sono tutto. Tutto? E chi dice che si può fare anche solo con diritti tv, con sponsorizzazioni? Non ho capito niente. No, è solo un tifoso. Immagino uno stadio vuoto. Vabbè, tu lo dici da tifoso io l'ho chiesto al Presidente. Ma guarda tifoso, ma è come se tu facessi l'amore solamente tramite internet capite che le figurine l'amore la fa sopra l'olette quello che si fa. L'amore... Cioè allo stadio c'è da lì ma poi l'ho chiesto al Presidente. La donna la devi palpare non la puoi vedere capite in termini solamente visibili. Virtuali. Virtuali. e non ho capito oppure un piatto di minestri virtualmente. Dei tifosi io penso una cosa bellissima. I tifosi sono la parte vitale del calcio. Senza tifosi non si può andare allo stadio. Immaginate voi uno stadio senza tifosi sarebbe veramente una noia pazzesca. Ma non esiste, non esisterebbe proprio. Mi dispiace per i tifosi perché alla fine pagano solamente quelli. Non mi dispiace per quei tifosi anzi se tenevano un bazook che avesse sparati ai tifosi sì, ai tifosi di la prima partita Rimini-Juventus alla commemorazione del grande Facchetti dove mi si accappone la pelle solo ricordare questo signore sono stati inneggiati dei cori da parte dei tifosi quelli non sono tifosi quelle gente che tu devi capire prendere gli tarla dentro allo pozzi e ci dovete mettere una palla da 30 quintali che non risalgono su perché quelli sono capaci pur di risalire. I tifosi nostri sono quelli veri veraci specialmente la grande curva nord questi ragazzi che vengono incolpati di tante cose che prendono le droghe che si ubriacano di qua di là non è così io ho vissuto quella curva da ragazzo poi man mano adesso purtroppo sono un uomo anziano però l'ho vissuta per tantissimi anni e vi garantisco che ci stanno tanti ragazzi bravi e seri un uomo anziano un uomo anziano un uomo anziano un uomo anziano che ci stanno che ci stanno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.